La spinta propulsiva di Expo ha accelerato una tendenza positiva in atto con l'aumento dei giovani lavoratori agricoli nelle campagne che riguarda sia gli occupati indipendenti che crescono del 15% sia quelli indipendenti che vedono una crescita del 9%. L'incremento si registra sia tra i ragazzi che tra le ragazze a testimoniare che l'appeal del settore agricolo tra i giovani è ormai trasversale ai generi. Un risultato record rispetto al dato generale che vede l'occupazione giovanile nei vari settori crescere solo dell'1%, frutto di un avanzamento del 2% per commercio, alberghi e ristoranti e del 3% negli altri servizi, mentre arretra sia pur leggermente l'industria. E' quanto emerge dai dati col diretti resi noti nel corso della Summer School che si è svolta a Lecce. L'avvio dei bandi previsti dai piani di sviluppo rurale crea opportunità di insediamento nell'agricoltura italiana per almeno 20.000 giovani fino al 2020. Parla nel linguaggio dell'innovazione, ha aggiunto il presidente dei col diretti Puglia Gianni Cantele, i dati relativi al lavoro nei campi pugliesi dove il 35% delle imprese agricole pugliesi è condotto da giovani. Le giornate di lavoro in cui sono impegnati i lavoratori agricoli tra i 20 e i 40 anni sono quasi 5 milioni pari al 15% del totale nazionale. Numeri irraguardevoli per un settore che fino a pochi anni fa ha vissuto un processo di invecchiamento che pareva inarrestabile. In Puglia, grazie al piano di sviluppo rurale, oltre 2.200 agricoltori otterranno un sostegno per la ristrutturazione o l'ammodernamento delle loro aziende. Più di 1.700 aziende agricole riceveranno sostegni per la partecipazione a regimi di qualità, a mercati locali e filiere corte, potendo investire nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. I giovani imprenditori agricoli pugliesi sono molto attenti all'informatizzazione utile a rendere più efficace ed efficiente la commercializzazione dei prodotti, la contabilità e la comunicazione esterna.